ciao a tutti amici dalla vostra demagreen però adesso io non sono demagreen sono harley queen dato che viviamo in un mondo di pazzi mi sono adeguata l'occasione vestita da una criminale pazza ovviamente io sto benissimo ragazzi sto andando avanti con il mio percorso dite voi se sto andando bene spero che state tutti bene io spero proprio di sì un abbraccio forte ai miei follower e le mie followers e niente perché sono ritornata vestita da pazza beh c'è un motivo dato che la persona in questione mi considera una vipera una pazza mi sono vestita per l'occasione allora ho fatto questo video cioè lo sto facendo perché mi è arrivato un audio su telegram della persona in questione voglio solo chiedervi un piacere prendete due minuti del vostro tempo per ascoltare quello che vi sto per far sentire questo audio mi ha fatto molto riflettere per quanto la cattiveria umana non ha limiti mi ha fatto sia ridere ma nello stesso tempo mi ha fatto un po riflettere bene ragazzi buon ascolto a fra poco tu sei un insulto all'aria all'ossigeno che respiri ti verò trovare a bari trani non so dove abiti e spero di scoprirlo sai quando quando starai sotto terra e mi farò una pisciata hai capito mi farò una pisciata sulla tua tomba solo solo in quel caso di vero trovare quando starai sotto terra il lupo cambia il pelo ma mai il vizio brutta serpe adesso che fai lo pubblichi e pubblico lo tanto l'ignoranza quello è il tuo mondo e l'ignoranza per quello per questo fai la badante e lo farai fino agli ultimi dei tuoi giorni rimani nella tua ignoranza faccio un video anzi mettici manifesti così tutti lo sanno brutta squadrina a te ti serve i messaggi così ci fai video non hai mai fatto una chiamata mai fatto una chiamata e guarda se una donna che veramente tu soltanto con i tuoi con 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 quelli della tua classe sociale puoi stare non con quelli con quelli con me no ma tu non sei una figa sei solo una donna la sei la differenza tra la donna con la figa la donna è un cesso la figa è quella che ha il tacco da 12 tu se metti il tacco da 12 te lo devi mettere in acciaio inox almeno ti sostiene il peso affanculo va e ringrazia a dio che ti sto mandando questo messaggio vocale gratuito addio complimenti a questo signora ebbene sì caro mio sono una donna certo ma sono una donna che ha dei valori intanto io ne vado fiera del mio lavoro aiuto persone che si sentono sole aiutano aiuto persone che hanno bisogno di me perché sono deboli hanno bisogno della mia compagnia e lo bisogno di tante cose io aiuto anche i disabili tra l'altro e ne vado fiera di aiutare delle persone che hanno problemi hanno bisogno dell'aiuto e hanno bisogno di tanto amore io ne vado continuamente fiera del lavoro che io faccio non lo farò eternamente come dice lui perché ho in mente altri piani che non sto neanche a dirli perché sono in progetto e sinceramente la figa come dici tu che al tacco da 12 e io c'ho il tacco da inox perché il mio peso lo far rompere non ho più questi problemi sono ancora in fase di dimagrimento e sto ancora a più della metà nel mio percorso fortunatamente mi mancano un paio di mesi ho finito tutto e dopo di che mantenimento a vita questo è il dov'è l'acciaio inox? anch'io c'ho il tacco di una sigla per questo non è un tacco da 12 perché sono già io al tasso io sono quasi un 80 è un tacco da 8 mi fa più che bene e non è d'acciaio inox ah è la cosa proprio che mi fa pena che addirittura vuoi venire a trovare nella tomba e mi vuoi pisciare sulla tomba che grande che sei sei un grande un grande signore non è le palle di affrontarmi quando sono venuta a casa tua giù in salento però mi viene a trovare quando sto nella tomba o a trani o a non ti dirò mai dove abito a parte che solo una persona che mi conosce da anni può dire dove abito ma non lo saprai mai 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 e poi tu sei il primo che tu dici che sei per la trasparenza perché non mi dà l'inizio dove abiti con tuo padre così vediamo chi ha le palle di affrontarti io di certo ce li ho perché sono venuta fino a neviano io l'ho giato da cinque minuti da casa tua perché neviano era da io sono vicini e non hai avuto le palle di affrontarmi perché dici che non ho le palle io sono venuta e tra l'altro dice che il messaggio gratuito e a me chi ti ha detto di mandarmi messaggi su telegram visto che vuoi essere pagato coerenza zero bello mio coerenza zero ha ha ah caro mio caro mio quante cose che non sei coerente e mi viene a rompere il cazzo a me se la vi bene ragazzi io termino qui il mio video sto vestita da carnevale darle qui ne dato che io sono una serpe sono pazza e niente io vi saluto ci vediamo in un prossimo video dato che io adesso ho ripreso di muo fare video e ciao dalla vostra Harley Quinn barese ciao nel